buongiorno bambini oggi insieme ai miei piccoli aiutanti matteo e leonardo vogliamo farvi vedere come abbiamo realizzato la nostra opera d'arte così se volete anche voi potete realizzarne una ci occorre un pezzo di cartone noi l'abbiamo ricavato da un vecchio gioco dei penarelli colorati della colla delle forbici e una matita iniziamo la nostra opera d'arte tracciando il contorno quando avete finito il contorno potete decorare l'interno a vostro piacere una volta finito di decorare l'interno potete ritagliare dei pezzi di cartone che vi è avanzato e decorarli a vostro piacere per abbellire la vostra opera d'arte quando avete finito di incollare le vostre decorazioni potete iniziare a ritagliare il contorno per ritagliare il contorno potete anche farvi aiutare da mamma o papà ed ecco qua la nostra opera d'arte è finita ed è pronta per essere appesa se vi è piaciuto questo lavoro potete realizzare le vostre opere d'arte e mandarcele ciao bambini buon divertimento